Hai già imboscato nella casa con alcune belle fanciulle dei City Angels, sono uscite un po' sudate dalla casa. Sono incasarato. Vittorio, grazie per essere qua. Un tuo incoraggiamento ai City Angels. Le persone che si occupano di altri danno il senso che il vero Dio è l'uomo. Se l'uomo fa qualcosa per un altro è come Dio. Purtroppo gli dei sono pochi e anche gli uomini, è vero difficile, sono più Dio Enrico. Dio Enrico!